Musica Sono l'ingegnere Andrea Cuzzocrea e sono il presidente del neoformato movimento politico-culturale Mezzogiorno in movimento, che è nato insieme ad altri professionisti, ad altri uomini di cultura, ad altre personalità di spicco politiche da circa un anno a Reggio Calabria. Il nostro obiettivo è quello di occuparci dei diritti calpestati delle imprese e dei cittadini, per questo abbiamo condiviso un'iniziativa del Partito Radicale di modifica di alcune normative che riteniamo quantomeno la loro applicazione del tutto liberticide, mi riferisco in particolare alla normativa sullo sceglimento dei comuni e alla normativa sull'interdittiva antimafia. Su questi due provvedimenti di legge, che insieme ad altri sei sono protagonisti di una campagna di raccolta firme del Partito Radicale in giro per l'Italia, abbiamo dato un nostro contributo fattivo alla stesura e vanno nel segno queste modifiche che noi stiamo proponendo per renderli finalizzati allo scopo per cui sono nati, quindi per renderli funzionali alla possibilità di combattere realmente il condizionamento della criminalità organizzata nei pubblici appalti per quanto riguarda le interdittive e per far sì che lo sceglimento dei comuni intervenga solo allorquando ci siano degli elementi concreti che lasciano presagire con una certa attendibilità che ci sia effettivamente un condizionamento di organismi legittimamente eletti. Quello che sta avvenendo è sotto gli occhi di tutti, perché di fatto non è così, c'è una prassi applicativa per quanto riguarda lo scioglimento e per quanto riguarda le interdittive che sta disseminando il panico in tutto il territorio nazionale, ma in particolar modo nelle regioni del Mezzogiorno e in particolar modo per quanto riguarda la provincia di Reggio Calabria e la Calabria intera, per cui intere comunità vengono sciolte senza contraddittorio, con provvedimenti del tutto discrezionali, senza che ci sia un minimo di confronto con i sindaci legittimamente eletti e per quanto riguarda le interdittive ormai lo strumento ha assunto una discrezionalità tale, per cui ormai contiamo centinaia di provvedimenti che dalla sera alla mattina bloccano le aziende portando alla desertificazione economica di un interi territorio con una disoccupazione che sta galoppando soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia. Quindi il nostro impegno del nostro movimento è quello di aiutare il Partito Radicale a raggiungere questo numero di firme e portare avanti questa carovana e questa campagna di raccolta per arrivare entro la fine dell'anno alle 50 mila firme che sono necessarie per portare in Parlamento queste proposte di legge, ricordando che adesso il Senato rispetto al passato ha un regolamento nuovo ed è obbligato a calendarizzare questi provvedimenti, con la speranza che si accenda un dibattito, che la politica accende i suoi riflettori su questi strumenti che non contribuiscono assolutamente alle fidelità per cui sono nate, che erano quelle di combattere la criminalità, semmai raggiungono l'obiettivo opposto che è quello di alimentare la criminalità perché quando si distrugge la democrazia chi ne giova veramente è la criminalità organizzata e quindi parlare di questi temi non si fa il gioco della criminalità organizzata, semmai si fa il gioco della democrazia. Grazie per la visione!